Ciao a tutti e benvenuti. Dunque siamo arrivati al giorno della partita che è importante per l'orgoglio, colgo tanto orgoglio da parte dei difusi rossoneri sui social, in quello che gira, su Whatsapp, ed è bello così, insomma non avevo dubbi che al momento della partita tutto il fermento, tutto il risentimento che c'è stato in maniera assolutamente rispettabile per quanto riguarda il mercato per quanto riguarda gli ultimi risultati convergesse invece sull'amore per i colori, sull'orgoglio con cui il Milan respira, vive, ostenta la propria storia e la sfida con i rivali dell'altra parte. Lasciatemi intanto ricordare che questa settimana ha presentato in lungo e in largo il derby, l'app di OneFootball, è stata una settimana derby per OneFootball, live il derby di Glasgow e tante notizie, tanta copertura sul derby di Milano. L'app di OneFootball è gratuita, scaricatela, è nel link alla descrizione di questo video, link gratuito, tutti i contenuti dell'app di OneFootball, video, highlights, testuali, sono assolutamente gratuiti, scaricate l'app di OneFootball. Rassegna stampa, la Gazzetta dello Sport propone le interviste a Milito e a Nesta e c'è evidentemente tutta la diversità del mondo nero-azzurro e del mondo rosso-nero. Milito dice siamo più forti noi, vinciamo noi, non c'è partita. Nesta dice ma secondo me Milan e Inter partono alla pari. Vabbè, insomma, lascio stare Milito perché è abbastanza ostico nei derby, quindi non lo commento. Però mi hanno colpito le frasi di Alessandro Nesta. Alessandro Nesta non fa sconti. Alessandro Nesta è sempre stato molto, molto critico. Io lo ricordo quando nel 2012 stava ormai lasciando il Milan, chiacchieramo un po' in privato con lui, con Ariedo Braida e le cose che disse Nesta quel giorno, io e Ariedo cercavamo di esorcizzarle, ma in effetti è un po' andata come diceva lui. È un obiettivo, Sandro. E quando dice che il Milan ha le sue carte, il Milan ha le sue chance, che le due squadre nella partita secca partono alla pari, esprime un parere che io non so se troverà conforto o meno sul campo, ma certamente non è un parere regalato, certamente non è un parere messo su così un tanto al tocco. Ho letto con molta attenzione anche l'editoriale di Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti che si è soffermato molto sulla mossa di Chessy Trequartista. Secondo lui la mossa di Chessy Trequartista può indirizzare il derby o da una parte o dall'altra. Cioè può indebolire il Milan se Chessy gioca una partita spaisata, può rafforzare molto il Milan se invece Chessy gioca una partita molto simile a quella ad esempio che il Milan aveva giocato ad Empoli prima di Natale, l'ultima partita di Chessy prima di andare in Coppa d'Africa. Naturalmente, come si è augurato ieri il nostro allenatore Stefano Pioni nella conferenza stampa della vigilia, c'è da sperare che appunto Frank sia nella condizione, come garantisce il nostro allenatore, tecnica, fisica e psicologica migliore per affrontare la partita e poi vedremo naturalmente quello che accadrà in campo. Però ecco, il fatto che Mario Sconcerti sia incuriosito da questa situazione e voglia vedere come va a finire. Ecco, è un tema perché anche Mario Sconcerti prima delle grandi partite ha sempre fatto capire chi vinceva fra una e l'altra e molto spesso ci ha azzeccato. Parlo delle singole partite, dei singoli grandi eventi del campionato italiano. Questa volta invece vuol vedere cosa succede, per cui cerchiamo di determinarlo anche noi quello che possiamo far succedere noi in questa partita. Arriviamo a questa gara dopo pronostici che sono sempre gli stessi, ho visto un servizio di Repubblica firmato Franco Vanni, credo, e mi scuso con Franco Vanni per il credo perché ho dovuto documentarvi con più attenzione prima di venire qui a chiacchierare con voi, che ha intervistato tutta una serie di attori comici, uomini di spettacolo e quasi tutti dicono Inter, c'è Maurizio Nichetti, grande regista, grande tifoso del Milan, che dice ma noi possiamo sperare solo in un tiro fortunato, in un tiro sghembo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io per la verità sono nato nel 1965 e stiamo per vivere il primo derby del 2022, ma io non ricordo da quando conosco più o meno il calcio, e cioè dal 1971, un derby in cui il pronostico fosse diverso, siamo sempre arrivati che stravincevano loro e noi eravamo le comparsa, ma sempre, è dai primi anni 70 che ogni derby è così. Ricordo un derby, quello che risolvemmo con Kakà nel febbraio del 2005, con il tiro di Gattuso nel filale deviato da Kakà, tutto il pomeriggio ero stato in una diretta dove mi avevano detto stasera li asfaltiamo, stasera li asfaltiamo, stasera li asfaltiamo, ed era un periodo in cui l'anno prima aveva vinto entrambi i derby, il Milan si è andata a ritorno in campionato, in quell'anno, 2004-2005, il Milan ha vinto tre derby, due di Champions e uno di campionato e pareggiato l'altro, quindi anche nei periodi, insomma, i derby vanno a ondate, epoche nostre, epoche loro, anche nell'epoche nostre loro ti dicevano ti asfaltiamo, ti battiamo, non esisti, eccetera, eccetera, quindi so bene che il tifoso milanista non si fa spaventare, so bene che il tifoso milanista conosce la Nenia e conosce il ritornello, ma sapete che il derby non è come ci arrivi, il derby è come succede sul campo, tradizionalmente nei derby loro hanno più veleno di noi, il milanista ha un orizzonte, l'Inter è molto caratterizzata, si caratterizza molto anche con i suoi claim, con i suoi slogan come squadra di Milano, quindi la partita di Milano la vive in maniera particolare, mentre uno dei lavori fatti soprattutto nei primi decenni dell'era Berlusconi era quella di universalizzare il Milan, cioè di rendere il Milan un fatto europeo e mondiale più che cittadino. Forse per questo, forse per questo, però insomma il tifoso del Milan ci tiene tanto evidentemente a questo derby e ci tiene non tanto per il derby in sé, per la rivalità, per cose di questo genere, ma anche per la stagione, per dare un senso alla stagione, per cogliere segnali importanti anche in prospettiva. Le previsioni della vigilia dicono che Tomori non parte dall'inizio, lui ieri ha risposto sto bene bene quando è arrivato nell'albergo del ritiro serale della squadra, la prima della partita, però insomma sia che oggi giochi dal primo minuto che non, c'è, è recuperato, è recuperato e quindi dalle prossime partite sarà spendibile con maggiore sicurezza, con maggiore tranquillità e serenità dal primo minuto se non fosse così stasera, se non dovesse essere così stasera, per cui si è rivelato il suo un infortunio non lungo e invece noi speriamo che rientri il prima possibile ante Erebici, ho fatto un giro anche sulla rassegna stampa internazionale, ho controllato siti spagnoli, inglesi, pakistani, ecco l'assenza di Ibra Erebici è particolarmente presente nei titoli sul web globale, sui portali dei siti esteri che si offermano molto su questa doppia assenza del Milan, naturalmente l'assenza di Ibra è anche l'assenza del personaggio, l'assenza del carisma di Zlatan, l'assenza di Erebici è un'assenza di sostanza, l'assenza di un giocatore importante, di un punto di forza importante, di un ricambio importante per la nostra squadra. Ragazzi speriamo bene, ci vediamo, ci sentiamo dopo la partita come sempre, ciao a tutti!